Leonardo Silva Revisore Buonasera, mi piace restituire una testimonianza personale e privata di un impegno etico e estetico. Io negli anni Ottanta, mi era morto mio padre, avevo ereditato un'impresa di appalti pubblici e in quel momento, parliamo degli anni Ottanta, era una Sicilia dell'epoca abbastanza conflittuale. E io ho scelto, ho sentito parlare stasera sempre di quella parola che è il tema anche della serata del coraggio. Il coraggio è la coerenza, è la coerenza di una vita, è la coerenza anche di testimonianze che ognuno di noi possiamo portare come valore di differenza. Una differenza che non vuole essere omologata, una differenza che non vuole essere neanche riconosciuta. A volte noi aspiriamo anche al riconoscimento. Il riconoscimento è la fabulazione dell'ego più potente che noi possiamo subire, vogliamo essere riconosciuti. E io ho scelto invece sempre una via eretica, ecco, di scegliere quel valore di differenza che ha trovato nel dono la bellezza. Io non ho pagato mafia, non mi sono seduto ai tavoli negli appalti pubblici, ho chiuso l'azienda degli appalti pubblici. Negli anni Ottanta ci dicevo che per essere cittadini bisognava essere antimafia. Ecco, ho visto, vedo tanti giovani presenti, in questa contemporaneità, quando sentite la parola anti o contro, non paga. Paga sempre il per, per costruisce, per fa la differenza. E aver donato, e aver scelto di donare bellezza al mio territorio, fra Santo Stefano di Camastra e Castel di Dusa, sono otto piccoli comuni, che grazie al dono dell'arte che io ho fatto di queste grandi opere monumentali che hanno segnato tutto il territorio restituendo una ricuscitura dell'anima. Queste opere, oltre ad avere un valore estetico, sono delle grandi sculture, non so se qua riesco, questa è la scultura di Consagra, che è la prima opera della Fiumara, è un addossato in bianco e nero, che è proprio la prima opera che avevo dedicato alla scomparsa di mio padre. E quando la mafia, il sistema politico, l'ignoranza, l'arroganza, ecco, reagì a questa mia posizione etica, naturalmente utilizzando tutti i linguaggi banali del male. Se parliamo di mafia, parliamo di attentati, o che magari ammazzano, e allora ammazzavano negli anni Ottanta. Se parliamo dello Stato, parliamo anche di quella burocrazia, che trovando nel comma A, nel comma B, un atto di abusivismo, ecco, tutte le opere della Fiumara, oltre agli attentati di mafia, sono state perseguite dallo Stato, al quale io avevo donato tutto il patrimonio. Questa era la prima scultura di Consagra. Le opere sono state tutte incriminate di occupazione di suolo pubblico. Questa è la grande finestra sul mare, l'opera di Tano Festa. Qui l'artista ha scelto la rinuncia, Tano Festa era uno dei più grandi pittori italiani, e qui invece l'artista ha restituito la visione della bellezza attraverso la cornice. Non dipinge la tela, ma lascia alla visione di ognuno di noi quella possibilità di sentirci opera. E tutte queste opere, questo è il grande labirinto di Arianna, a Castel di Lucio, che è un chilometro dove anche qui, entrando da una porta di una grande madre, si arriva al centro, dove il centro, il mostro, il minotauro, è sempre il nostro ego. E quindi dimettendoci da noi stessi, ecco, ci può essere una rigenerazione anche di quell'essere bellezza. E questo labirinto restituisce tutto. Questa è la grande piramide di Mauro Saccioli. Questa è una delle ultime opere che ho realizzato nel territorio. È una piramide di 30 metri in cima alla montagna, in Corten, e anche lei la piramide restituisce la visione di elevare lo sguardo verso l'alto. Noi in questo momento, anche con le tecnologie, con i telefonini, camminiamo sempre con lo sguardo verso il basso. Ecco, questi archetipi, una piramide in cima alla montagna, sicuramente educa alla visione della bellezza. E quest'opera di un grande maestro, Mauro Saccioli, ha segnato il territorio come un faro di luce. E ogni anno, al 21 giugno, facevamo il rito della luce ai piedi della piramide. Questo è lo sculto di Paolo Schiavo Campo. Ecco, tutte queste opere hanno reso famoso il territorio nel mondo. Il territorio della fiume alla d'arte è diventato una meta internazionale. E quando si parla sempre dell'abbandono dei piccoli borghi, delle nuove generazioni che se ne vanno, ecco, quando ci sono politiche con la P maiuscola, e quella culturale dell'arte, è una politica di quella devozione alla bellezza, che ha vinto nel territorio. Non vincono le sagre che i sindaci ancora oggi organizzano, vince la cultura, vince la politica culturale. Oggi la fiume alla Valle dell'Alessa, dieci comuni sono famosi nel mondo per un'identità culturale, per un impegno civile, per una coerenza che trova ancora il senso oggi nell'educazione alla bellezza. E queste opere ancora continuano, come anche l'albergo, questa è l'onda, anche ho fatto il museo albergo, un'autoagenzia educativa alla bellezza. Ho preso un vecchio albergo, 40 anni fa, e ho consegnato le stanze a tutti gli artisti. Questa è una delle opere più belle della fiume, che è la stanza di Barca d'Oro, ed è un'opera di un grande maestro, Nagasawa, che l'avevamo fatta perché avesse la vita di un giorno. Un'opera che rinunciava alla visione, al consumo, e lo stesso giorno in cui l'abbiamo creata, questa stanza dentro la montagna, l'abbiamo chiusa con un testamento spirituale per 100 anni. Ecco, la bellezza rinuncia anche al consumo della sua fruizione per consegnarsi allo spazio-tempo nella sua dimensione innocente. E quest'opera farà piacere adesso, prossimamente, invece di riaprirla. Quindi è un'occasione stasera pubblica, per comunicarlo, perché è un'opera che consegnava la visione dell'invisibile, ma forse oggi, in questa contemporaneità, necessita di una nuova sua vita, di un nuovo suo modo di comunicare anche alle nuove generazioni. Questa è la caserma Carabinieri, avevo ricevuto uno dei tanti attentati di mafia, e io ho risposto ai mafiosi, costruendo, facendo diventare, trasformando un presidio dello Stato, come la caserma Carabinieri, in un'opera d'arte, e qui Piero Torazio, mio grande amico all'epoca, mi diede il progetto per poter trasformare anche una caserma in quella bellezza di essere arte. Poi l'albergo, con tutte le stanze, questo è il librino, ecco, questo è l'albergo, questo è stato un altro modo contemporaneo di educare la bellezza attraverso la fruizione di una cama d'albergo. L'artista crea lo spazio, chi entra in queste stanze non guarda più il quadro, non guarda più la scultura, ma diventa opera. Ecco, restituire a ognuno di noi quella possibilità di sentirci opera, ecco, questo è un grande momento anche di condivisione col pubblico, perché non è il museo d'arte contemporanea che noi abbiamo visto negli anni 90, 2000 e oggi purtroppo è chiudersi, perché poi il contemporaneo non può essere mai un museo, il contemporaneo deve andare sempre nella vita, nel mettero alla gente. Poi, dopo cento anni, entra in un museo. Abbiamo forse sbagliato che negli anni 80, 90 ci hanno detto anche il sistema dell'arte di essere in quel modo. Ecco, questo non è il museo d'arte contemporanea, ma questo è un luogo di quella normalità, di quello ordinario, che ogni giorno educa la bellezza, educa attraverso lo stupore, la meraviglia, il disturbo. E queste stanze, anche qui, realizzate da grandi artisti, questa è la stanza del profeta di Pierpaolo Pasolini. Poi abbiamo fatto anche, sono 25 camere. Quindi, il museo albergo restituisce l'agenzia educativa ogni giorno a un fruitore di quell'opera, di quell'opera cosiddetta opera d'arte, che ritorna a sentirsi opera. E questa è la bellezza. Poi, l'ultimo impegno, queste sono tutte le stanze, l'ultimo impegno, che in questi giorni sto lavorando, è a Catania, è anche qui la coerenza. Io mi sono innamorato di un luogo, anzi, di un non luogo a procedere, come purtroppo ci sono nelle nostre città, che noi chiamiamo periferie. Ecco, le periferie non sono luoghi da recuperare, le periferie non sono luoghi della devianza, della droga, dello spaccio. Ecco, questo è un librino, 70.000 persone, 10.000 bambini, anche lì ho sentito la necessità di rigenerare la bellezza attraverso la condivisione con tutta la gente del quartiere. Questa è stata la prima opera che è la Porta della Bellezza, l'abbiamo fatta 20 anni fa, sopra c'è il muro in cemento armato, sotto, grazie alla condivisione con l'arte, con gli artisti e soprattutto con le 2.000 mamme, 2.000 bambini dell'epoca, quest'opera sotto ha restituito la visione della bellezza a tutto il quartiere e dopo 15 anni è diventato il simbolo del quartiere di Librino e in più la gente protegge la bellezza. Allora, questo processo artistico, ecco, l'opera d'arte fino a se stessa è sempre anche lì figlia del proprio ego, del proprio segno, del proprio lavoro. L'opera d'arte è un luogo come Librino, come lo zen, come Scampia, è quella di restituire a tutti gli abitanti, anche qui, il valore di sentirsi opera. Questo processo artistico, quindi, è importante nella creatività non pensare a quello che noi possiamo realmente creare, o si chiama scultura, pittura, o design, è importante creare il processo. È il processo l'opera. Al Librino l'opera d'arte è il processo, il processo dell'educazione, della condivisione con una comunità che grazie a questo impegno ecco, ha trovato il senso nella bellezza. Che senso ha? Donare un'opera in un quartiere periferico dove manca tutto, la strada, la fogna, ecco, le periferie sono soltanto serbatoi di voti, di un sistema con l'ignoranza compra 70.000 voti. Ecco, non sono luoghi, sono luoghi di un regime di sistema. E allora Librino, scegliendo la bellezza, sceglie quella visione del futuro che non è costruito sul recupero, sulla devianza, ma sul riscatto che rigenera bellezza. E quest'opera con gli artisti, ecco, vedete, abbiamo fatto i laboratori in terracotta, tutti i bambini ora in questi giorni stanno realizzando tutti questi manufatti dove attraverso il linguaggio dell'argilla, ecco, vedete, poi c'è la parte finale dell'opera, la parte inferiore è la parte condivisa con i bambini, la parte superiore è la parte creativa dell'artista stesso. Ecco, ecco, vedete qua, ci sono i bambini con i profili, questi sono un pezzo di argilla di 20 centimetri, sigilla un patto di bellezza con 2.000 bambini con questo profilo che oggi dopo 15 anni ecco, li rincontro nella maturità della vita, oggi hanno 30 anni, 40 anni e oggi visto che loro sono stati bravi a rispettare la bellezza e a proteggerla, stiamo realizzando un'ultima opera ecco, vedete, questa è tutta la porta della bellezza quella originale, questo è il librino, stiamo realizzando la porta delle farfalle, un'opera condivisa con 25 artisti e anche con 20 licei artistici di tutta la Sicilia perché anche lì bisogna proteggere questa contemporaneità i luoghi dell'arte, le agenzie educative della bellezza, il Calos, il liceo classico, il liceo artistico oggi per i ragazzi non può essere una convenienza, pensare e sognare non serve mentre oggi più che mai c'è necessità di sapere e c'è necessità di sogni c'è una dittatura dell'ignoranza mondiale che vuole attraverso una scuola messa in discussione perché oggi la scuola dall'elementare all'università deve promuovere l'ignoranza non abbiamo promosso molta conoscenza promuoviamo ignoranza perché c'è dittatura di ignoranza e allora l'arte non serve a creare un manufatto l'arte serve anche a risvegliare un po' di coscienza a consegnare ai bambini che il potere più grande delle mani è una mano mettere i libri e una mano mettere i sogni ecco questo è il messaggio più bello che mi sento di portare al librino anche con questa realizzazione della porta delle farfalle perché adesso c'è un grande muro di un chilometro e mezzo che stiamo completando in questi giorni e questa porta delle farfalle è condivisa con 20.000 persone e per questa condivisione sul ponte centrale del quartiere ho scritto in questi giorni un bellissimo messaggio etico e anche molto popolare non so se lo riprendo quello di prima ecco questi sono i pezzi della porta delle farfalle vedete 20.000 persone stanno condividendo questo processo artistico l'opera d'arte sarà il muro trasformato in bellezza o le 20.000 persone che dopo quattro generazioni si trovano ancora a condividere la bellezza al librino questo è stata una grande vittoria politica dell'arte della bellezza che anche al librino sta affermando un diritto alla cittadinanza che non passa per recupero ma passa per la conoscenza nelle periferie non ci vogliono eserciti di poliziotti nelle periferie ci vogliono eserciti di insegnanti di poeti di filosofi forse questo abbiamo perso anche come senso comune di una società civile che non esiste più ecco io in nome di questa coerenza e in nome anche di questo fare fatto perché le utopie che albergavano nei nostri cuori negli anni 80 utopia non è ciò che non si può realizzare ma ciò che il sistema non vuole che si realizzi e l'artista solo l'artista che è straniero un po' in mezzo a qualunque umanità di contemporaneità l'artista restituisce sempre quella visione del futuro attraverso azioni e attraverso un cuore che non trova mai fine nella semina perché lo spirito che anima la semina vuole sempre come frutto semina e se uno semina per tutta la vita raccogliendo la semina come senso di futuro ecco più che andare con quell'ego che ci accompagna nella solitudine anche di questa contemporaneità forse dovremmo imparare di più ad ascoltare forse dovremmo imparare di più a ringraziare perché ringraziare la potenza rivendicare che purtroppo è figlio della nostra ecocentricità di questa contemporaneità quindi trovare il senso nel ringraziamento di ognuno di noi è molto importante e l'arte è che in luoghi come Librino sta restituendo questa visione a 70.000 persone perché a Librino ci sono 70.000 persone 10.000 bambini che grazie a questo processo artistico stanno trovando quel respiro universale della bellezza il coraggio che è stato un po' questo minimo comune dell'ombicatore di stasera il coraggio è sempre quello del cuore è quello di non spegnere mai il cuore bisogna ringraziare l'ingratitudine nella vita perché il genere umano non conosce altro ringraziamento rispondiamo sempre con l'ingratitudine e per non fermarci mai e per non farci fermare mai da qualunque sistema togliendo l'ego forse dovremmo imparare a ringraziare l'ingratitudine ringraziando l'ingratitudine ci restituisce quel coraggio fino alla fine di rimanere coerenti e in uno stato di grazie 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 a tutti grazie a tutti